Grazie Riccardo, ciao a tutti, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con Secure Start 2021, decimo anniversario, anche se edizioni questa dovrebbe essere la quinta perché alcuni anni è saltato. Perciò, velocissimamente perché l'argomento è vasto e di cose da dire ce ne sarebbero tante, è tutto nel titolo che vedete proiettato. Monitoraggio di analisi services ma con uno scopo ben preciso, quello che è indicato nel sottotitolo, quindi come scoprire quanto e come il nostro modello dati è utilizzato dai business user. Prima di cominciare, due parole veloci su di me, attualmente sono in altitudo, sono il team leader del Copete Center Data Analytics, Power BI User Group, la community italiana che ho aiutato a fondare e che amministro insieme a chi mi ha preceduto, cioè Lorenzo Vercellati, a chi sta coordinando e poi mi seguirà, a Riccardo Perico e ad altri amici. Vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto perché anche lì ci sono tanti eventi veramente interessanti con ospiti anche internazionali e va bene, due indicazioni su di me. È vent'anni che mi occupo di business intelligence in senso lato con tecnologia Microsoft. Ovviamente un ringraziamento ai partner, anche quest'anno non siamo in presenza, ci auguriamo tutti di poterlo essere l'anno prossimo, però questi sono i partner del SQL Start storici, storici delle marche, l'Università Politecnica delle Marche e soprattutto UGIS che ci sta supportando con tutta l'organizzazione, anzi è un doveroso grazie a tutti coloro che nelle varie sale stanno dando una mano e agli speaker ovviamente. Agenda, molto snella direi, prima di tutto vedremo perché ci sarà un sistema di monitoring, quali sono le opzioni che esistono, ci sarà una parte di demo, cercherò di stringere quella prima parte in modo tale da vedere tutte le slide perché secondo me è importante vederle tutte e poi anche sull'ultima demo vediamo quello che riusciamo a fare e poi eventualmente se volete ulteriori indicazioni mi contattate in privato, non c'è problema. Allora, incominciamo da qua, incominciamo da quella che spesso viene ritenuta la fine, in che senso? Nel senso che normalmente siamo abituati a ragionare in termini di progetto che quando abbiamo finalmente rilasciato quello che è stato il prodotto del nostro progetto in produzione abbiamo terminato. Ovviamente la domanda è puramente retorica perché non ne siamo certi e anzi assolutamente non abbiamo terminato il nostro lavoro. In primis perché qualsiasi progetto di business intelligence comunque non non finisce mai, non finisce mai perché al di là della parola intelligence la parola business fa capire che deve essere assolutamente legato a quelle che sono gli andamenti del business che per definizione non non possono essere sempre uguali ma si devono adattare a diversi scenari. Ma nello specifico quello che succede nel momento in cui abbiamo rilasciato il nostro progetto è che qualcuno che magari nella parte di sviluppo non è stato molto coinvolto, non ci ha coinvolto più di tanto, non ci ha fatto richieste particolarmente pressanti comincerà a farle. Tipicamente sono due figure aziendali, l'amministratore del sistema e i committenti e per committenti intendo coloro che hanno anche investito nel progetto sia economicamente ma anche che si sono spese all'interno dell'azienda per far nascere la cultura del dato e quindi l'utilizzo della nostra applicazione, del nostro progetto. Quindi queste due figure di utenti fondamentalmente ci faranno tutta una serie di domande che possiamo riassumere in queste. Chi sta usando il nostro progetto? Perché ovviamente c'è anche un discorso di ROI da considerare, quindi quanto otteniamo di valore aggiunto dal nostro progetto in termini di utilizzo, quando viene usato il nostro progetto, quindi la nostra base dati, quanto viene usato e soprattutto come viene usato. Chiaramente il perché dovrebbe essere il motivo per cui è nato il progetto. Qual è la sfida? La sfida è rassunta in questa slide un po' provocatoria. Ho messo due immagini on prem, ma lo stesso discorso vale per analisi services on Azure. Fondamentalmente quando noi accediamo a un server non abbiamo nessuna percezione di chi sta usando e che cosa sta usando. È chiaro che questa è una estremizzazione. Abbiamo degli strumenti per vedere, per valutare le performance, il carico di lavoro, come sta lavorando la RAM, la CPU, eccetera, ma non ci sono utili questi dati per rispondere a quelle domande, cioè sapere appunto chi, come, dove, quando. Quindi come facciamo per capire chi sta usando e quindi in questo caso per questa slide capire che il server a sinistra, l'istanza di analisi service a sinistra è molto più utilizzata rispetto a quella di destra. Ovviamente per fare questo bisogna avere un sistema di monitor, un sistema che continua costantemente a monitorare le nostre istanze e ci dà tutte quelle informazioni che ci servono. Quali sono le caratteristiche che deve avere questo sistema di monitoring? Ovviamente sono tante, alcune sono, come dire, soggettive e quindi ognuno di voi poi avrà le sue risposte, ma fondamentalmente le principali e assolutamente necessarie sono queste. Intanto ci deve dare informazioni utili e questo direi che è il primo requisito, sia qualitativamente che quantitativamente. Poi ci deve dare una risposta alle nostre domande, ma senza essere invasivo sulla macchina, sull'istanza che ragionevolmente sarà quella di produzione, che quindi è già soggetta magari a un carico di lavoro importante. Ecco, questo non è possibile, essere completamente non invasivi, diciamo poco invasivi e decisamente oggi ci sono gli strumenti, le tecnologie per essere poco, poco invasivi e dare poco fastidio alla nostra istanza. In ultimo requisito che viene particolarmente gradito dai nostri clienti utenti è costare poco, forse meglio se costa anche meno. Diciamo che l'idea di base è quella di crearsi qualcosa con quello che già abbiamo, quindi sfruttare tecnologie, strumenti, tool che già abbiamo è un minimo di impegno per mettere insieme tutto quanto. Nella sessione vi farò vedere come si può arrivare a avere un sistema completo, un sistema che può essere sviluppato essendo custom quanto si vuole, quanto si ritiene opportuno fare. Noi come Altitude ne abbiamo realizzato uno molto molto completo, però vuole essere questa sessione uno stimolo per farvi capire come si potrebbe fare. Poi se qualcuno a seguito di questa sessione si vuole avventurare e ha bisogno di confrontarsi o magari ha anche suggerimenti e altre idee, ben venga, sapete dove trovarmi. Quindi che cosa abbiamo per fare monitoring? Beh ci sono dei tool di terze parti, ci sono degli strumenti che ci consentono di farlo. Tipicamente, perlomeno quelli che mi è capitato di vedere, francamente non ho fatto poi un'indagine di mercato molto approfondita, però tutti quelli che mi sono più familiari, che conosco, forniscono informazioni anche molto molto dettagliate. Diciamo che tutti i tool tipicamente danno troppe informazioni, questo perché nascono con l'esigenza di monitorare tutto, quindi non solo quello che è l'obiettivo che ci stiamo dando con questa sessione, ma anche avere tutta una serie di metriche che si riferiscono alle performance delle nostre istanze e che magari per questo scopo specifico sono anche ridondanti. Quindi tipicamente i problemi che danno sono su quei due punti lì, quindi informazioni molto dettagliate, troppe informazioni, ma anche hanno un costo che talvolta non è traspurabile, non è sostenibile, di conseguenza non si possono utilizzare. La notizia bella è che possiamo farci tutto in casa, abbiamo gli strumenti per farlo. Ovviamente bisogna sfruttare tutte le tecnologie che già abbiamo e di cui magari siamo anche padroni tecnologicamente, nel senso che sappiamo come utilizzarle. Qui ho elencato quelle che abbiamo utilizzato nella soluzione che è stata sviluppata e che sono SQL Server, Power BI, Azure Monitor e un po' di fantasia di codice. Ribadisco, quella che vi mostrò non è la soluzione in senso assoluto, non è nemmeno la soluzione completa, ma è una soluzione già sufficientemente completa da poter ottenere le risposte alle domande che ci siamo posti nelle prime slide. Cosa dobbiamo monitorare? Beh, qua il ragionamento da fare è riferito alle risposte che dobbiamo dare. Mi è capitato da un cliente di fare questa analisi e ci si domandava se era sufficiente, per esempio, fermarsi al monitoraggio che in parte già abbiamo out of the box dell'utilizzo della reportistica di Power BI. Chiaramente non è sufficiente se la risposta che vogliamo dare è a quelle domande, perché in un'azienda tipicamente non c'è solo Power BI, gli utenti non usano solo quello strumento, per cui noi dobbiamo andare alla fonte e avere modo di registrare tutte le query che vengono eseguite dall'istanza dell'analisi services. Questo ci garantisce di poter monitorare sia l'utilizzo della reportistica, delle dashboard, dei report di Power BI, ma anche dell'utilizzo dell'istanza attraverso tool diversi che possono essere Excel, ma lo stesso Power BI Desktop, piuttosto che tool di terze parti o DAX Studio o quant'altro. Quindi dobbiamo monitorare tutte le query e ci servono alcuni dati, pochi dati, che fondamentalmente ci consentono di analizzare completamente l'utilizzo e quindi rispondere a quelle famose domande. Intanto l'applicazione che ha eseguito la query, è importante sapere gli utenti quali applicazioni usano, privilegiano per fare analisi sui nostri dati. Ovviamente chi ha fatto la query, questo ci è utile per capire ovviamente all'interno dell'azienda chi usa maggiormente o non usa la nostra soluzione, il server, chiaramente perché potrei avere più istanze da monitorare, il database, perché anche qui avere più modelli è una cosa ormai di uso comune, difficilmente ci si limita a uno. Il testo della query, questo è un di più, che è quello che vedremo alla fine nella demo finale, che spero di riuscire a mostrarvi perlomeno il risultato finale, perché è un pezzo in più che ci si è posti, che è quello di andare addirittura a capire che cosa viene interrogato con la query, quindi non fermarsi al modello dati, ma riuscire a capire quali sono le dimensioni, quali sono le colonne delle varie tabelle che vengono utilizzate, le misure che vengono utilizzate, questo con l'ottica soprattutto di ottimizzare i nostri modelli. Spesso si portano in produzione modelli molto estesi per far fronte a una richiesta iniziale degli utenti che tipicamente è portami tutto, però poi abbiamo bisogno di capire se effettivamente questo tutto che abbiamo portato in produzione e che ovviamente ha un costo sia a livello di elaborazione, sia a livello proprio economico, mantenere attivo, se ha senso, se ha senso ottenere tutto o se ci sono particolari informazioni che possono essere tranquillamente tolte, perché magari abbiamo l'evidenza che negli ultimi X giorni, X mesi, nessuno le ha interrogate. Date e ore di esecuzione della query, anche questo è molto utile, soprattutto se abbiamo un'istanza, per esempio su EGio, ma non solo, che sia utilizzata worldwide, capire effettivamente chi la sta usando, e in quale momento è molto importante, anche per magari far fronte a picchi di lavoro e dare magari più potenza in certi momenti alle nostre stanze. Infine la durata della risoluzione della query, nello specifico per quello che è l'obiettivo che ci siamo posti, probabilmente non è necessario, però è un dato utile perché il passo successivo potrebbe essere quello di capire se ci sono delle query particolarmente lente che mettono sotto stress la nostra istanza e da lì partire con tutta una serie di verifiche, di analisi, anche di performance, sulla tipologia di query che fanno i nostri utenti. Ora ci sono tutta una serie di tool che ci consentono di rispondere alle domande e raccogliendo quei dati che abbiamo appena elencato, quindi registrano tutte le query e registrano soprattutto di ogni query tutte le informazioni che ci servono. Qui ho elencato quelli che lo fanno, non mi risulta ce ne siano altri, però benvenga se qualcuno scopre qualcos'altro. SQL Server Profiler è il vecchio buon classico che si usa da parecchi anni, sia su SQL Server che su Analyze Services, è uno strumento ormai consolidato, è poco invasivo, non salva automaticamente i dati in una tabella di SQL, ma si può tranquillamente fare con un minimo di click oppure con del codice, ma ancora meglio o perlomeno l'evoluzione del SQL Server Profiler sono gli stand-in-livenze. gli stand-in-livenze consentono di fare grosso modo quello che si fa col profile, con piccole differenze, ma hanno un impatto ancora minore sulle nostre istanze, quindi se vogliamo garantirci di non dare fastidio alla nostra istanza con questa attività di monitoraggio, sicuramente il stand-in-livenze è la scelta migliore. Esiste poi un tool che è stato realizzato da Christian Wade, che è il program manager di Analyze Services per Microsoft, quindi diciamo che è una fonte più che autorevole, che è stato pubblicato su GitHub e che consente di generare una trace, catturare il log e salvarlo in una tabella di SQL Server, tutto tramite codice C Sharp, e quindi chiunque volesse potrebbe scaricarselo e eventualmente customizzarlo e farsene un tool proprio. E infine l'ultima cosa interessante è che abbiamo anche la possibilità di avere tutto diciamo che con una forma abbastanza in uso a gratis, diciamo che abbiamo la possibilità di non dover nemmeno andare a configurare più di tanto quelli che sono eventi, eccetera, eccetera, ma agendo su Azure Monitor abbiamo la possibilità di tenere monitorate costantemente le nostre istanze. Funziona ovviamente con le istanze di Azure Analysis Services, ma funziona anche con le applicazioni on-premise. Per onestà vi dico che non l'ho testata questa opzione, quindi non ho ancora verificato che questa cosa effettivamente funziona, però è nella documentazione di Microsoft, quindi ritengo che non ci siano dubbi in proposito. Ovviamente ci sono anche dei contro, li vedremo alla fine rispetto all'utilizzo di Azure Monitor, però sicuramente è un modo per avere tutto senza dover fare troppe configurazioni. Che cosa dobbiamo monitorare? Perché abbiamo detto che noi vogliamo monitorare le query, ma questi strumenti ci consentirebbero di monitorare tantissimi eventi che accadono dietro le quinte nell'Engine di Analysis Services? Fondamentalmente a noi servono solamente questi due, query begin e query end. Perché ci servono entrambi? Dipende, come sempre la risposta classica, dipende da cosa vogliamo fare e ho specificato in questa slide le differenze minime, ma possono essere fondamentali, fra questi due eventi. Query begin mi restisce tutte le informazioni che abbiamo visto, però mi restituisce anche informazioni riguardo eventuali parametri della query. Per cui se il nostro scopo è monitorare anche il testo della query e il testo della query soprattutto che viene eseguito eventualmente da un report di Power BI report builder, quindi un report paginato che ha dei parametri, ci serve il query begin, perché all'interno di un evento particolare ci sono tutti i valori che sono stati passati ai parametri. Quindi noi avremo la possibilità di completare la query che viene scritta nel nostro report con la classica notazione dei parametri, quindi chioccio la nome parametro, di sostituirla con il reale valore. Questo può essere utile se devo fare attività di ottimizzazione dei query, sapere esattamente quali erano i parametri. Se non ci serve tutto questo, ci basta il query end. Il query end direi che è fondamentale averlo perché ci fornisce le altre due informazioni che ovviamente non ci sono nei query begin, cioè l'ora della fine di esecuzione della query e conseguentemente la durata della query. Ora, come si fa per configurare, per esempio, i profiler? Semplicemente basta lanciare SQL Server Profiler dal Management Studio, andare a scegliere il template blank, che vuol dire non tracciare nulla, perché ce n'è uno standard già definito, e andarci a scegliere appunto uno di questi due eventi o entrambi. Ho messo queste slide perché poi ci saranno, potrete scaricarle, perché secondo me possono essere utili a posteriori per rivedere magari i passaggi logici che cercheremo magari di vedere nella demo. Come dicevo, gli eventi sono query begin e query end. Ognuno di questi eventi ha diversi attributi, quindi diverse colonne che vengono valorizzate quando vengono registrati questi eventi e le trovate tutte qua. Ho esplicitato quelle che sono assolutamente importanti, quindi l'attivity driver che è il GUI della query, l'event class che ci dice qual è l'evento che è stato tracciato, ma soprattutto l'event subclass ci dice qual è il linguaggio della query che è stata registrata. Gli eventi che registrano i resi services sono relativamente a query MDX, DMX, SQL e DAX. Tipicamente sarete interessati a quelle MDX e DAX. TextData contiene il test della query, poi come vedete gli altri valori degli altri attributi. Extended events anche qua, tre passaggi, questo lo vedremo nella demo. creo il mio extend events e poi la possibilità di salvare il risultato con tre modalità, modalità o dentro un file con estensione X e L o nell'event stream che è lo strumento che lo stesso Management Studio utilizza per visualizzare, quindi direttamente in tempo reale, l'esecuzione, oppure con il ring buffer che è una modalità che si usa tipicamente nel codice, per esempio il codice di Christian Wade usa quello, in modo tale che venga il dato salvato in memoria e poi è onere dell'applicazione andarlo eventualmente a salvare ciclicamente in una tabella. La cosa particolare è che in questo caso al primo restart del server però i dati verranno persi perché rimangono nella memoria oppure quando si chiude ovviamente la nostra trace. Sentirete parlare, se andate a consultare un po' in rete, anche di server side trace. Non è niente di accademico, di ufficiale, ma è un modo per definire tutte le trace che vengono lanciate, create, non dalla GUI, ma attraverso dei comandi tipicamente XMLA, dei descripti XMLA, che per esempio vengono utilizzati se si vuole costruire quindi un sistema custom di monitoring perché chiaramente ci sarà qualcosa che fa partire queste trace senza bisogno dell'intervento di nessuno. Scusa Francesco, ti fermo perché ci sono un paio di domande, magari sono relative proprio a questo di cui hai parlato adesso, forse è il caso di prenderle subito. Sì. Allora, qualcuno chiede come gestisci il riavvio della macchina su cui stai facendo la traccia, visto che perdi i dati se viene riavviata? Allora, nel caso del ring buffer è onere della tua applicazione gestire questa cosa. Non c'è modo perché è stato fatto così. Tipicamente l'event file c'è la modalità di dire che questo file venga, o meglio la trace che ha generato l'event file, venga rigenerata ogni volta che riparte distanza. Di questa cosa sono certo per quanto riguarda il profiler, dovrei verificare per quanto riguarda distendere events, ma salvare su file è una scelta che poi ti porta ad altri problemi. quindi sicuramente ci penserei un attimo prima di farla. In passato avevo sviluppato una soluzione per l'olap in realtà, che faceva questo. Quindi quando crei una trace server side con l'XMLA puoi dire guarda, salvami in un file. Il file deve essere grande, al massimo 10 mega, e quindi ogni volta che supera questo valore viene creato un nuovo file, dandogli un progressivo. Se c'è un parametro per cui li puoi dire se l'istanza di analisi servizi scrolla per qualsiasi motivo, quando riparte, fammi ripartire la trace. Quindi quello era il modo che tipicamente si usava. Vedremo invece con Azure Monitor che questo problema non sussiste, perché in automatico viene loggato ogni volta che l'istanza riparte. Perfetto. Ce n'era un'altra? Sì, penso proprio di sì. Molto esaustivo. Ce n'è un'altra, te la faccio, poi decidi tu magari se la vuoi, se è più avanti nella sessione. Qualcuno chiede se puoi fare un esempio su come analizzi le query. Ok, dicevi prima che hai una soluzione in cui catturi il query text e poi fai un'analisi dei pattern, diciamo, delle query, eccetera. Se qualcuno chiede se puoi fare degli esempi su come affronti il problema. Non lo vediamo, vediamo il risultato finale, però vi dico che è tutto fatto con delle regular expression. Quindi viene parsata la query con delle regular expression che sono in grado di catturare gli elementi importanti per capire che cosa stanno in, in quel momento, interrogando i nostri utenti. Perfetto, grazie. Niente, allora, dicevamo, questo, due comandi che ci sono utili nel momento in cui dovessimo cominciare a giocare con le trace. Se non usiamo la GUI, quindi ci affidiamo a degli script, c'è il rischio poi di lasciare attive delle trace e di non sapere bene quante trace sono attive sul server. Due comandi. Il primo si può lanciare indifferentemente da una query Mdx, DMX o DAX ed è una select star su quella particolare vista di sistema. Nel caso in cui voglio eliminare una trace da comando, quest'altro è il comando, io li lascerò qua nelle slide, ma comunque si trova di trascendentale. Velocissimamente, un esempio tipico, molto, molto di alto livello, di un'architettura on-premise, di un qualsiasi nostro progetto. Abbiamo un'istanza di analysis services che è, quindi, on-prem, che sta nel lead quarter della nostra azienda, del nostro cliente, viene acceduta dagli utenti, dai business users attraverso diversi client, stessa cosa anche da eventuali uffici che non sono territorialmente, che non risiedono nella stesso territorio e poi i dati possono essere acceduti attraverso il servizio di Power BI. Questa invece è la classica architettura on-azure, quindi stessa situazione, quarter, branch office, però sta tutto su Azure, quindi abbiamo sia il Power BI service, ma anche e soprattutto il nostro regione analysis services, quindi possiamo ricondurre tutto concettualmente, ripeto proprio una semplificazione, però rende, secondo me, bene l'idea. Alla fine tutto converge in un unico punto ed è per questo che possiamo permetterci di monitorare le query di analysis services, perché tutti vanno a cadere lì. Alla fine qualsiasi richiesta da qualunque fonte arrivi deve cadere su quello che è il punto dove ci sono i dati, dove i dati vengono presentati. Quindi l'idea è io dalla mia macchina, adesso ho messo MyLetter, ma potrebbe essere un server o qualsiasi altra macchina, io posso accedere alle istanze di analysis services e lanciare queste famose trace per consentirmi di avere l'analisi dei dati. tipicamente quello che si fa è utilizzare qualcosa che è in grado di schedulare o di sequenzializzare una serie di attività in modo tale da avere questo risultato, che è quello che poi fa la soluzione che vedremo velocissimamente in demo, visti i tempi che corrono. Quindi vediamo velocissimamente gli standard events trace. Allora, allora. Ci siamo. Sì, vediamo il tuo manager in studio. Perfetto, come faccio per far partire un extended events, una trace extended events? Intanto mi collego alla mia istanza di analysis services, qui è un'istanza sulla mia macchina. Management. All'interno di management ci sono gli extended events, session, faccio partire una nuova sessione. nel menu quello che devo fare è semplicemente dare un nome, quindi chiamiamola con estrema fantasia demo, events, vado a scegliere quali sono gli events che voglio selezionare, posso ricercarli, facciamo un bel query begin, lo sposto in quelli selezionati, selezioniamo anche query end e lo spostiamo in quelli selezionati. C'è la possibilità di fare alcune configurazioni, alcuni attributi li posso selezionare arbitrariamente, questi invece sono quelli che vengono di default sempre registrati. Ultimo passaggio, data storage, devo scegliere come devono essere salvati questi dati, quindi in questo caso andiamo a scegliere l'event stream, che è la modalità che usa Management Studio poi per visualizzare il risultato, diamo ok e a questo punto viene creata la trace. Per poter vedere il risultato devo andare col tasto destro sulla mia trace e fare watch live data. Facendo watch live data parte una finestra dove vengono registrate le mie query. Per poter vedere il risultato, adesso io mi azzardo in questa cosa, vediamo se riusciamo a farla, ma con la scheda video che dà problemi forse è meglio non provarci, andiamo a prendere un Power BI che avevo già creato che è questo, vedete, che banalmente si va a connettere sulla mia istanza in locale, quindi su AdventureWorks che sta sulla mia macchina. è un AdventureWorks molto semplificato, ma ci serve semplicemente vedere il risultato, quindi buttiamo via questa griglia che tanto non ci serve, creiamo una nuova griglia, sotto abbiamo la trace che sta girando, andiamo a prendere un qualsiasi dato, per esempio andiamo a prendere le date, andiamo a prendere dal calendario gli anni, vedete che già è partita la nostra trace, ha registrato il query begin e il query end, mettiamoci magari anche dei numeri giusto per avere qualcosa di completo, Internet Sales, total unit, va bene, quindi questi sono i numeri che escono dalla nostra query, non ci interessano più di tanto, però quello che ci interessa è capire che cosa è stato tracciato, quindi torniamo sulla nostra trace, quindi abbiamo query begin e query end perché le query che sono state inviate dal nostro Power BI desktop sono due, una per recuperare gli anni, una per recuperare poi anche i valori perché chiaramente ogni volta che interagiamo Power BI genera una query, a questo punto andiamo a vedere che cosa contengono i nostri eventi, query begin come vi dicevo rispetto al query end eccoci qua, contiene questo parametro che è il request parameter, in questo caso è vuoto perché non abbiamo parametri, mentre se abbiamo sul query end in più abbiamo gli altri dati interessanti che ci possono servire che sono l'end time e abbiamo da qualche parte anche la durata della nostra query. ora che ci interessa è che questi eventi ovviamente se scriviamo noi il codice possiamo andare a recuperare solo quelli che ci servono nel caso della finestra di management studio quello che posso fare è andare a selezionare un particolare campo per esempio text data tasto destro show column in table e lo otteniamo anche nella nostra tabella quindi a questo punto abbiamo la possibilità di di andarcelo a visualizzare per esteso recuperarci per esempio la query c'è anche la possibilità di salvare questo risultato in una tabella come devo fare vado su extended events ma se vado su export scopro che non si può fare questo perché e questo è poco intuitivo perché devo stoppare la mia la mia trese peccato che il comando si chiama delete e questo chiaramente genera un po' di dubbi ma andate tranquilli l'importante è non chiudere questa finestra demo live data delete vi darà un errore ma non è un problema è un po' di edizione di management studio che c'è questo errore ma in realtà dietro le quinte la sessione la trese è stata eliminata se riseleziono la mia finestra a questo punto i stand events ho la possibilità di andare vedete a salvare il file csv file oppure in tabella proviamo a fare velocissimamente un salvataggio in tabella server name la mia macchina è locale si è aperta dall'altra parte ok scelgo un database di demo che avevo qua diamogli un nome e x che sta per gli stand event ok a questo punto andiamo a aprire il nostro database 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 demo SQL start table e se andiamo qua vedete la tabella di dbo e x e facciamo una select e ci troviamo esattamente gli eventi ok e ci troviamo esattamente gli eventi che abbiamo registrato torniamo velocissimamente alle slide perché ho paura di essere lungo quei tempi poi con questa interruzione imprevista sicuramente lo sono devo solo ritrovare dov'è il powerpoint che è sparito ce la posso fare non lo vedo più datemi un secondo di qua no eccolo qua eccolo qua andiamo velocissimamente dove c'eravamo fermati e ripartiamo da qua allora mi proietta sul video sbagliato condivido quest'altro Riccardo oggi è un disastro questa scheda video non so se è successo sì non ti preoccupare non c'è nessunissimo problema quindi screen 1 niente non c'è verso mi vede va bene vedete voi sì 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 vediamo la tua slide con grafici sì allora se parliamo di Azure abbiamo la possibilità di avere i log diciamo già predisposti non dico gratuitamente perché c'è un piccolo costo ma sono già predisposti tutto si basa su Azure platform logs Azure platform logs è l'architettura di Azure che consente di fare logging sia delle risorse che delle subscription che dei tenant eccetera per quanto riguarda analisi services usando Azure platform log che cosa succede io ho la possibilità di andare a definire per il mio analisi services uno stream di log che devono essere registrati e che poi potrò analizzare questo stream di log avviene attraverso attraverso Azure Azure monitor Azure monitor come funziona fondamentalmente ha due tipologie di log ma mi consente poi di andare ad analizzare i risultati con diverse modalità per fare analisi eccetera eccetera i dati sono di due tipi metriche o log le metriche hanno i dati più di utilizzo e di performance i log sono quelli che in realtà ci servono la cosa importante è che i log si possono analizzare con mille modalità ma per i nostri per i nostri scopi l'unica cosa importante è che c'è la possibilità di fare delle query di fare delle query con un linguaggio particolare che si chiama custo che è molto simile a SQL serve a T-SQL è un po' T-SQL un po' PowerShell non serve diventare dei grossi esperti per quello che ci che vogliamo tenere ma è un linguaggio molto potente e ci consente quindi di analizzare i nostri i nostri log cosa posso fare poi una volta che analizzo questi log andare a scegliere quali tipo di eventi e di logging andare a prendere quindi nel nostro caso saremo interessati a quelli di tipo engine sono di tre tipi c'è engine service e all matrix engine sono esattamente quelli che abbiamo visto per gli stand di events quindi sicuramente siamo interessati a questi non posso selezionarne uno solo ma lui li log a tutti ma poi dalla nostra query andiamo a prenderci solo quelli che ci servono stessa cosa per i service che sono informazioni per chi dovesse aver bisogno più di carattere generale perché per esempio ci tracciano quando il server viene radiato quando viene cancellato qualcosa eccetera eccetera e infine abbiamo le all matrix che dobbiamo considerare un po' come fossero i performance counter che abbiamo sui nostri server fisici o virtuali ma on prem quindi se dovete fare analisi relativamente all'utilizzo di cpu eccetera utilizzerete questi per i nostri scopi ci servono quindi solamente quelli dell'engine e configurarlo è semplicissimo si crea un workspace log analytics chiaramente dal portale di azure una volta creato il workspace si va nella istanza di analisi services e si definisce lì che vogliamo che venga fatto il log quindi con diagnostic settings e infine andiamo a scegliere vedete qua in basso nella slide che tipo di log vogliamo fare in questo caso engine e che cosa che cosa vogliamo farne quindi l'architettura di quello che andremo a vedere è fondamentalmente la stessa di prima solo che invece di andare a fare tutto dalla nostra macchina utilizzeremo la piattaforma di azure e quelli che sono gli strumenti che ci dà la piattaforma di azure quindi vediamo cosa riusciamo a fare e che disastri riusciamo a fare adesso dunque io da qualche parte ho anche un altro power bi che ci consente di date che qua non è per niente semplice andare a capire dove ho le cose ma ci posso arrivare da qua allora eccolo qua Francesco vediamo le tue slide ancora vediamo demo Azure Monitor in questo momento ah perché mi ha preso ok oggi veramente divertente ce la possiamo fare con un po' di pazienza quindi share content screen 1 screen 2 ho ripreso funzionare secondo monitor quindi adesso vedete Riccardo si abbiamo power bi perfetto questo è un Azure semplicemente cambia il puntamento e il puntamento in questo caso va su un su un analisi service che sta su Azure è anche questo con Adventure Works di pur esempio e quindi ci colleghiamo a questo che cosa mi interessa qua mi interessa eseguire qualche query in modo tale che poi andremo a vedere con i log che queste query sono state effettivamente tracciate quindi per farlo magari prendiamo anche qua una banalissima griglia questa volta andiamo a prendere che so la geografia giusto per avere qualcosa di diverso e verificare che cosa andiamo a prendere poi con i log andiamo a prendere country region per esempio ok ok country region e andiamo a prendere sempre su internet sales questa volta magari prendiamo total sales total margin un po' di misure ovviamente non ci interessa il risultato ma ci interessa che abbiamo eseguito una query a questo punto che cosa possiamo fare beh su questa istanza ovviamente io ho attivato il log quindi quello che possiamo fare è andare su ci arriviamo su log analytics quindi siamo dentro questo ok sì questo eravamo qua più o meno sì abbiamo fatto la query fondamentalmente ok poi sei sparito ti abbiamo perso proprio per due due minuti allora fondamentalmente sono entrato dentro al portale di log al portale di Azure e a log analytics questo log analytics è collegato ovviamente con quell'istanza di analisi services e quella che vediamo qua è semplicemente una query custo che mi consente di recuperare che cosa beh il linguaggio è molto semplice Azure diagnostics è un po' la tabella su cui andiamo a prendere i dati quindi log where andiamo a prendere solo query begin la particolarità di custo è che attraverso il simbolo pipe posso aggiungere una serie di predicati project sono le colonne che mi interessa tirare fuori di tutte quelle disponibili un order by e poi andiamo a prendere where time generated maggiore di un giorno quindi andiamo a prendere tutto quello che è intercorso nelle ultime 24 ore la query l'ho già eseguita e vedete che mi restituisce tutto quello che è stato eseguito sulla mia istanza nell'ultima giornata in questo caso e quindi se andiamo a vedere dovremmo trovarci a un certo punto anche la nostra query c'è un certo ritardo per cui non è detto che tutto appaia subito ma ci vuole qualche minuto per farlo apparire eccolo qua vedete qua sotto country region name questa è la query sono le due query che abbiamo eseguito pochi minuti fa con questa logica è possibile andare a tirarsi fuori tutti i dati che ci servono quindi io vi farei vedere velocissimamente quanto tempo abbiamo hai ancora 10 minuti ah perfetto allora con questa logica noi possiamo andarci a tirare fuori tutti i dati che ci servono quindi se andiamo a prendere una query per esempio un po' più articolata tipo questa che però strutturalmente non è niente di di eclatante rispetto a quella che abbiamo già visto perché non sale ok quindi andiamo a prendere solo query end even subclass 3 riguarda le query DAX andiamo a prendere solo la giornata di oggi qui usa il between quindi comprende l'11 ma esclude il 12 e poi andiamo a prendere tutti i campi che ci servono che sono quelli che effettivamente servono alla nostra soluzione se eseguiamo questa query quindi lui ci restituisce solo le query eseguite oggi che sono banalmente quelle due che abbiamo eseguito noi più una che avevo provato io stamattina e ci dà tutte le informazioni che ci servono la cosa interessante adesso proviamo magari a eseguire anche una query via DAX studio che dovrei avere qua yes ce la posso fare ok se eseguiamo questa query qua andiamo a prendere ah beh andiamo a prendere anche qua il product column però vabbè è solo per vedere l'ha eseguita come dicevo c'è un certo ritardo quindi non è ci vorrà un po' prima che appare ma la cosa interessante è che quando l'avrà registrata qua ci apparirà come vedete questa che ho fatto io stamattina l'application name di chi di quale applicazione che ha eseguito la query e questo è decisamente molto molto importante torno velocemente sulle slide per farvi vedere quella che è l'architettura che potrebbe essere di riferimento per una per un'applicazione scusate faccio tutto questo giro perché non vorrei che si rompesse ancora tutto e se torniamo sulle nostre slide qua e ancora una volta mi ha perso mi proietta sullo schermo sbagliato ci arrivo ma è divertente fare la sessione così ci siamo? ci siamo eravamo arrivati qua ok quindi quello che ci interessa a noi è fondamentalmente fare questi passaggi che insomma in maniera un po' disordinata se hai riusciti a vedere mi scuso di quello che è successo ma ahimè è il bello della diretta dicevo quello che dobbiamo fare è eseguire queste query e custo una volta che il log attivo funziona in automatico funziona sempre 24 ore al giorno se va giù se spegniamo l'istanza si spegne se reattiviamo l'istanza riparte e salvarlo in un database e poi elaborare tutti i dati che ci servono l'ulteriore evoluzione che ho indicato qua è quella che appunto di cui parlavamo prima e che ha portato alla domanda che mi è stata fatta quindi in questo caso la demo sarebbe questa ma diciamo l'architettura di riferimento sarebbe questa tutto quello che facciamo in più è attraverso PowerShell uno script di PowerShell che poi salva i dati in un database di SQL Server e poi possiamo analizzare i dati con Power BI Desktop quindi a questo punto se non ricordo male ecco il processo che viene fatto in dettaglio questa è un'indicazione di come è stato fatto non è completissimo ma racchiude un po' tutti i passaggi ci sono le tabelle sono il database finale dove c'è il modello dati è diviso in tre aree una chiamata source dove ci sono i dati diciamo di frontiera che vengono caricati ad ogni caricamento poi ci sono delle tabelle di staging e poi ci sono le tabelle del dvh e infine con delle viste vengono mostrate a Power BI classico quindi il PowerShell che cosa fa? svuota le tabelle di sorgente poi si fa carico di andare a fare delle query dmv quindi data management view su Azure Analysis Service in questo caso ma potrebbe essere anche l'analisi services in locale perché? perché l'informazione più importante che serve per andare a capire se il nostro modello è ridondante e dobbiamo eliminare delle colonne è sapere non tanto cosa viene usato dagli utenti ma cosa non viene usato e per sapere cosa non viene usato dobbiamo sapere cosa c'è nel modello quindi vengono fatte delle query vengono raccolti i dati i dati di ce la posso fare ok vengono ok niente lo devo lo devo spaccare probabilmente per ok una volta che ho raccolto i dati del mio modello tabular so che cosa c'è nel mio modello tabular confrontandolo con cosa ho registrato nelle query evidentemente riesco a capire che cosa non viene usato poi vengono eseguite le custo query che raccolgono i dati nel caso pratico dell'ultima giornata quindi tutte le notti parte mi carica i dati del giorno precedente vengono inseriti i dati in queste tabelle di frontiera poi parte un passaggio successivo che per ogni query sul testo della query viene effettuato il parse attraverso queste regular expression quindi vengono raccolte le informazioni di utilizzo di colonne misure misure calcolate e quant'altro e poi ci sono delle store procedure che fanno il passaggio sul schema allo staging a data warehouse salvando con delle logiche tutti i dati e arrivando al modello finale quindi andiamo a vedere velocemente il risultato finale perché mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo scusa se ti rubo solamente un secondo e voglio far vedere questa cosa qua trovo il modello giusto che dovrebbe stare qua lo vedete si ok questo è un esempio sono dati chiaramente reali ma camuffati di un'installazione abbiamo la possibilità di andare a vedere per giorno quelle che sono state le query quali sono stati gli utenti abbiamo la possibilità di fare un'analisi per esempio per fasce orarie per capire quali sono le fasce orarie in cui vengono utilizzati di più i nostri dati database eccetera eccetera se andiamo a vedere invece i dati della nostra installazione del nostro adventure works questo è il nostro adventure works adesso non lo aggiorno perché non vorrei entrare in ulteriori crash ma la cosa interessante appunto è la possibilità di andare a scegliere se vedere solo le query DAX o solamente le query MDX in questo caso non credo nemmeno che forse ce n'è solamente una questo è l'adventure works mio di test e qua possiamo vedere quindi le entities quindi qua abbiamo la possibilità di vedere quali sono le entità del modello in questo caso stiamo vedendo solo quelle non utilizzate ovviamente abbiamo fatto pochissime query quindi stanno nella maggior parte oppure ci possiamo concentrare solamente su quelle utilizzate e qua andare per ogni tabella a vedere quali sono le colonne utilizzate andiamo possiamo scegliere di vedere solamente le misure e così via questo è quello che si può ottenere lavorandoci un po' su e creando una soluzione completa mi scuso per i disagi che ci sono stati che purtroppo sono diciamo involontariamente colpevole se ci sono altre domande vi invito a scrivermi perché ci sarebbero molte altre cose da mostrare e non rubo altro tempo perché tocca a Riccardo e non voglio togliergli altro spazio vi ringrazio scusate ancora per i disagi grazie Francesco in realtà le ultime due domande che c'erano hai penso già risposto perché qualcuno chiedeva se si può interrogare il log analytics da Power BI in realtà la tua soluzione lo mostra quindi c'è un'altra cosa interessante che se vogliamo vi faccio vedere proprio al volo giusto per dirvelo state vedendo sì 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 ecco una cosa interessante che una volta che ho la mia query ovviamente qua posso salvare come ci aspettiamo il salvare il log eccetera ma c'è una cosa molto interessante che ci può essere utile che è questo export in questo export tra le varie possibilità c'è questa che è interessantissima export to Power BI che cosa succede se faccio l'export mi viene generato un file che è banalissimo ma che è utilissimo che è questo qua cioè mi viene già creato tutto il codice M affinché la mia query venga eseguita direttamente dentro un Power BI quindi io posso prendere questo codice portarlo dentro un mio Power BI vuoto Power BI desktop vuoto e mi trovo già i dati per cui posso fare l'analisi chiaramente di quella query questo credo che sia molto molto utile per iniziare molto interessante grazie ancora Riccardo scusami se ho sforato no ci mancherebbe sono le 11.15 perfetto proprio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti